La curiosa rievocazione storica che vuole ricostruire un fatto d'armi avvenuto nel 1091 fra le milizie del conte Ruggero il Normanno e le orde saracene. Sulla piazza del paese si erge una costruzione che raffigura la nave saracena dalla quale sbarcano gli invasori bianco vestiti. Fallito il tentativo di conciliazione fra i condottieri ne nasce una movimentata tenzone che finisce con la sconfitta dei saraceni fugati dalla Vergine Amazzone. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.